girati girati su girati girati vedete tutti cosa c'è scritto sulla sua maglietta a sì ecco da dove inizi da la non iniziare dalla z a devi iniziare da la a significa che è l'inizio non è vero quindi da dove cominciare avviene in fasi da dove cominciare l'abbiamo detto ripetutamente puoi cominciare solo da dove sei non puoi cominciare da qualche altra parte non cercare di cominciare da nessuna parte non c'è niente da cominciare già da molto tempo è cominciato stai cercando solo di accelerarlo tutto qui non puoi cominciare è già iniziato forse stai pensando a più soldi ma è solo un tuo fraintendimento ma essenzialmente vuoi essere qualcosa di più questo è un processo spirituale fuorviato ma è un processo spirituale vuoi diventare potente vuoi diventare ricco vuoi diventare sapiente vuoi essere amato vuoi provare piacere sono tutti processi spirituali che vanno in direzioni sbagliate ecco tutto inconsapevolmente stai in modo inconsapevole conducendo un processo spirituale se conduci qualsiasi cosa inconsapevolmente potresti deviare ad ogni passo magari fuori strada non è vero se cammini ora se ti dico torna a casa guidando ad occhi chiusi prima di uscire dal parcheggio sarai già in un bel casino non è vero quindi ora non cercare di iniziare da nessuna parte diventa solo sempre più consapevole diventando più consapevole troverà naturalmente la sua strada essere consapevoli essere coscienti cosa significa se cerchi di essere consapevole non puoi esserlo la gente confonde sempre prontezza mentale e consapevolezza la prontezza mentale aumenterà la tua capacità di sopravvivere meglio puoi sopravvivere meglio con la prontezza mentale ma quella non è consapevolezza consapevolezza significa adesso sei qui adesso sai che sei qui questa è consapevolezza sei consapevole ecco perché sai che sei qui altrimenti non lo sapresti supponiamo che tu non sai di essere qui non è vero se qualcuno allora lo sai se qualcuno è morto lo tocchi nessuna consapevolezza qualcuno è addormentato lo tocchi immediatamente è presente ora non serve essere toccato comunque sei presente quello che sto dicendo è che la tua consapevolezza arriva comunque in fasi diverse hai notato che i momenti diversi della giornata sei in livelli diversi di consapevolezza quindi può essere aumentata ciò che è necessario per la sopravvivenza accade naturalmente anche in modalità sopravvivenza non ogni individuo è vigile nella stessa misura ora stai guidando per strada non tutti sono attenti nella stessa misura è un processo di sopravvivenza guidare ma non tutti sono attenti nella stessa misura e questo può essere aumentato se aumenti questa consapevolezza continuamente arriverà a un punto dove non si tratterà più di sopravvivenza qualcosa che non è necessario per la tua sopravvivenza entrerà anch'esso nella tua consapevolezza quando entra nella tua consapevolezza ciò che non è necessario per la tua sopravvivenza è inevitabilmente una dimensione al di là del fisico quando questo entra nella tua viva esperienza di vita sei in sintonia molto semplice in quei sette giorni quel che stavamo facendo con te è stato lentamente caricarti 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 in modo tale che diventi sempre più consapevole d'un tratto dopo cinque sei giorni sei così dopodiché se hai continuato la tua pratica gradualmente salirà ogni giorno altrimenti lentamente si offusca ancora l'hai notato se continui costantemente la tua pratica come è la tua consapevolezza se ti fermi lentamente il voltaggio diminuisce se il voltaggio scende la luce diventa debole se la luce diventa debole vedi pochissime cose se il voltaggio è molto alto la luce diventa molto intensa e vedi tutto questa è consapevolezza quindi non lavorare sulla tua consapevolezza o sulla tua coscienza o sulla tua crescita spirituale lavora solo sul tuo voltaggio mantieni alte le tue energie il più possibile ma quando le energie sono alte tendi a rimanere invischiato in qualcosa assicurati di non rimanere invischiato in niente vedi un adolescente è molto più energico degli altri ma si mette sempre nei guai perché ha l'energia ma non la stabilità quindi per avere l'energia e mantenere la stabilità se fai queste due cose se le fai il resto accadrà da solo nient'altro da fare semplicemente siediti e goditela l'energia ma non la stabilità 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 Grazie a tutti.